Musica Mezzi agricoli e attrezzature da lavoro rubati e poi rivenduti su piattaforme online è la scoperta fatta dai carabinieri nel corso di un'attività investigativa. Nel Foggiano tutto è cominciato dalla denuncia di vari furti subiti da parte di un agricoltore di Alpricena. Nel mese di luglio le indagini dei militari coordinate dalla procura di Foggia hanno permesso agli investigatori di appurare che la refurtiva era stata messa in vendita su una nota piattaforma di commercio online. L'attività investigativa ha poi condotto i carabinieri in un deposito situato nel territorio di Torre Maggiore dove mezzi e attrezzature rubati erano stati nascosti accuratamente. Alcuni erano stati anche riverniciati per ostacolarne il riconoscimento in caso di controlli ma la loro provenienza non è sfuggita ai militari. Tutto il materiale è stato sottoposto al sequestro mentre a finire nei guai sono state tre persone che sono state denunciate all'autorità giudiziaria.